La RAI Radio Televisione Italiana bandisce concorsi per professori d'orchestra presso le orchestre sinfoniche di Milano, Roma, Torino, l'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli e le orchestre leggere di Milano e Roma e per artisti del coro presso i cori lirici di Milano, Roma, Torino, coro da camera Roma. Precisazioni sui ruoli messi a concorso sono contenute nei numeri 28, 29, 30 e 31 del Radio Corriere TV. Le persone interessate potranno ritirare copia dei bandi presso tutte le sedi regionali della RAI o richiederlo al seguente indirizzo. RAI Radio Televisione Italiana a supporto del personale, concorsi per professori d'orchestra e artisti del coro, Viale Mazzini 14 00195 Roma. Ed ora per la serie Tu per Tu con l'opera d'arte va in onda un programma dedicato a Lazio. RAI Radio Televisione Italiana a supporto del personale,